Situazione sempre rallentata, anzi bloccata Ci stanno organizzando, cercando di montare le catene per poter passare La rotina perراiale è stata riuscita, crea che sia possibile La rotina per poter passare con i piadami Ora fare una rotina per poter passare La rotina per poter passare a la rotina per poter passare Grazie a tutti